Ci avviciniamo al 31 dicembre e come tradizione la nostra città cerchiamo di vivere intensamente questo momento di festa evitando gli aspetti del dolore e certe volte delle tragedie. Anche in un momento di crisi economica un appello, un invito a non comprare botti illegali, botti pericolosi, ma solamente quelli autorizzati, venire a guardare gli straordinari fughi di artificio che si faranno sul lungomare liberato. Quindi per chi ha un po' di risorse da spendere, tanto da comprare botti illegali, faccia qualcosa di importante per la città e per la legalità, ad esempio comprare la cesta delle associazioni anticamorra per fare un pacco alla camorra. Basta iniziare l'anno con la conta dei feriti e qualche volta addirittura dei morti. diamo un segnale di civiltà, di amore per la vita e di amore per la nostra città. Il 31 dicembre deve essere una festa per lasciarci alle spalle un anno difficile nella speranza che il 2013 sia un anno più bello per tutti noi napoletani.